Buonasera, buonasera al professor Emanuele Stolti. In occasione della pubblicazione del suo libro La prima lezione di diritto romano, edito dalla terza, è uscito quest'anno. È un libro che, lo dice il titolo, è dedicato ai giovani che iniziano lo studio di legge all'università e cominciamo con una domanda. Buonasera professore. Buonasera a lei, buonasera a chi ci ascolta. Una prima domanda è quella relativa a come ha dovuto o come l'ha impostato questo libro. Qual è, diciamo, la punta della questione che ha dovuto affrontare nello scriverlo. Posso anche appena fare qualche leggera suggestione. Il fatto che forse l'approccio è molto storicistico oggi, che sembra che, come dire, abbiano interesse solo per chi si interessa alla storia, ma che non tocchi invece per davvero invece anche la pratica corrente di chi poi avrà questa formazione giuridica, quindi magistrati, avvocati, notai, gugolari. Diciamo che nel libro è un po' precipitata la mia esperienza didattica. Mai faccio questo lavoro da 25 anni, una cosa o l'altra, quindi ho un po' un ripreso, un canovaccio, uno schema che io seguivo nelle prime lezioni dei miei corsi alle matricole, perché questo è, diciamo, il pubblico ideale che mi sono immaginato, ma questo naturalmente non significa che il libro non sia anche rivolto a un pubblico colto, anche a studenti universitari non di giurisprudenza, ma a chi genericamente voleva farsi una prima idea su cos'è questa grande eredità che il mondo antico ci ha trasmesso, l'invenzione romana del diritto come un sapere scientifico. Quindi da una parte ho cercato di riepilogare, di riprendere un canovaccio di lezioni che mi portavo dietro da molto tempo, ma poi ho cercato di recuperare innanzitutto una percezione, uno stato d'animo. Mi rimangono spesso impresse certe sensazioni che ho avuto da studente. Il primo impatto che io ebbi col diritto romano è soprattutto quella specie di curiosità, di stupore, perché devo studiare una cosa tanto lontana nell'intraprendere un percorso che mi porterà a svolgere professioni giuridiche, non a fare un lavoro di storico. Non avevo la minima idea all'epoca e poi avrei fatto il professore universitario di diritto romano. Quindi perché se avessi fatto medicina non avrei studiato Ipocrate o Galeno, se avessi fatto architettura non avrei studiato Vitruvio e qui invece mi trovavo un importante, un grosso esame al primo anno relativo a un diritto lontano di duemila anni. Ecco, un po' l'incipit del libro è legato al rivivere. Quella sensazione che poi è di molti studenti. L'inizio dico di solito la prima domanda che ci poniamo quando affrontiamo una materia è cosa. Cosa dobbiamo studiare? In questo caso probabilmente la prima domanda è perché. Perché, cioè per quale ragione e con quale scopo. A un livello diciamo un po' più alto di riflessione c'è stato poi un altro problema di fondo a cui un po' accennato anche lei con la domanda e cioè il ruolo formativo di questo studio. Il mio approccio è un approccio fortemente storicista per mia formazione, per mia convinzione. Io sono convinto che noi ci dobbiamo accostare al diritto del passato senza attualizzarlo, senza proiettarvi le categorie nostre, senza farne il calco, l'anticipazione minore del diritto oggi vigente. Una cosa è il diritto che vigeva a Roma duemila anni fa, una cosa è il nostro. Naturalmente con tutte le derivazioni in essi genealogici eh fra l'uno e l'altro, ma è una tradizione complessa che è passata attraverso tante rivisitazioni. Ogni generazione che ha riletto i materiali letterari che ci vengono da quel mondo lo ha fatto con aspettative di senso diverse, ma nulla di strano insomma. In fondo la filosofia è un po' la stessa cosa, no? Platone e Aristotele si sono riletti per duemila cinquecento anni a ogni generazione a posto delle domande diverse. Domande di Pomponazzi non hanno domande di San Tommaso, le domande di Perelman non hanno le domande del neoaristotelismo rinascimentale e così via. Quindi eh c'è alle spalle una tradizione lunghissima, ma questo non vuol dire attualizzare l'antico. Ma allora che serve? Cioè se non è un diritto oggi applicabile e non è un diritto che io devo guardare come se lo fosse, a che mi serve? Ecco, un po' la sfida del libro è questa, è mostrare l'utilità critica di uno studio di esperienze giuridiche del passato, al quale ci legano molti nessi, perché il nostro modo di ragionare come giuristi viene da Roma, le nostre categorie generali, le grandi astrazioni del diritto, proprietà, possesso, contratto, reato, soggetto, eccetera, vengono in maniera diretta o indiretta dall'elaborazione dei giuristi romani. Il pensiero critico rispetto all'oggi, al presente giuridico, ma è anche garantito dal confronto con l'alterità nel tempo. Quindi per me guardare al passato del diritto, agli albori della tradizione giuridica occidentale è anche, soprattutto, una palestra di pensiero critico, per non essere, diciamo, succubi, schiacciati sull'oggi. Io lo dico con voluto paradosso, secondo me le materie culturali tra le materie giuridiche, cioè le materie storiche e le materie filosofiche, sono le materie più professionalizzanti, perché è vero che non impartiamo nozioni che servono nella prassi per un avvocato o per un giudice, ma in realtà oggi la cosa che è più importante non è trovare, conservare le nozioni, è sapendo gestire. Perché ciò che è delegabile a un'intelligenza artificiale è il facile, rapido reperimento, la lunga conservazione di quei dati, quello che prima facevamo con la memoria, oggi può essere sostituito con l'intelligenza artificiale. Quello che non può essere sostituito è la nostra capacità di elaborare criticamente quei dati, di interpretare, di argomentare, di applicare le previsioni generali ai casi particolari. Sì, volevo chiederle. Quindi si può dire che il discorso comune occidentale quasi spaccia la credenza in una pura tecnicità delle regole giuridiche, perché sta accenando questo invece di tutta la base che c'è, oppure qual è il lascito del diritto romano per chi ha quel tipo di formazione poi? Il diritto ha una cifra tecnica irrinunciabile, altrimenti non è diritto, cioè se al diritto io tolgo le tecniche è un sociologismo un po' nebuloso, ma perde la sua cifra specifica. Il punto è però che non è solo tecnica. Ora, la formula andava di moda una cinquantina di anni fa, poi nel frattempo ha perso appeal, ma c'era un'immagine molto ricorrente tra anni 60 e 70 nella scienza giuridica italiana ed era quella delle tecniche e delle ideologie assieme. Il discorso del giurista è un discorso di tecniche e di ideologie, perché se non vi sono le tecniche si perde la cifra peculiare del diritto, ma se non vi è l'attenzione alle ideologie, non nel senso deteriore, di falsa rappresentazione della realtà, ma proprio di concezioni in senso lato politiche, le tecniche sono cieche. Ma questo non vale solo per lo studioso, vale per qualsiasi operatore del diritto, altrimenti uno è soltanto un burocrate ottuso che applica quel determinato comma di quel determinato articolo. Ma già per farlo in maniera un po' più ambiziosa e raffinata, come si richiede mediamente a un giudice, un avvocato o un notaio, uno si deve porre tutta una serie di questioni ulteriori, per esempio quella disposizione la devo interpretare e applicare nel senso più letterale possibile, ma se è letterale nel significato più ampio delle parole, interpretazione estensiva o nella portata più ristretta, interpretazione restrittiva. E poi devo valutare soltanto la lettera di quella previsione normativa o lo scopo che si prefiggeva il legislatore, l'obiettivo, la razza, come dicono i giuristi? Perché allora in questo caso io mi devo chiedere ma il legislatore chi era? In quale contesto ha emanato quella disposizione? Per far fronte a quali esigenze? Per esempio se io leggo un articolo del codice civile e guardo o del codice penale alla razio, alla finalità perseguita dal legislatore di allora e mi trovo davanti un legislatore fascista che aveva in mente l'ordine corporativo, il solidarismo, il superamento dell'individualismo borghese eccetera eccetera e probabilmente non, anzi direi certamente non potrò farmi guidare da quegli obiettivi che erano stati perseguiti a suo tempo per interpretare quella disposizione ma dovrò reinterpretata alla luce dei principi costituzionali che frattanto sono subentrati. Allora il discorso delle ideologie, il discorso delle tecniche non sono separabili, stanno insieme contemporaneamente anche nel concreto del lavoro del giurista. Da questo punto di vista le materie storico-giuridiche, le materie rivolte a esperienze giuridiche del passato hanno in fondo un vantaggio perché occupandoci di un diritto morto, un diritto che non è più attuale, è più evidente un dato che le nozioni hanno uno scopo solo strumentale. Il vero obiettivo è la formazione critica del giurista, è insegnare ai giovani a ragionare da giuristi, mentre quando si insegna una materia di diritto vigente, diritto positivo, cioè posto nell'oggi, si attalora l'illusione che ciò che più conta siano le nozioni, la tale regola, la tale prescrizione, ma in realtà il discorso è molto simile anche lì perché ci devono essere le nozioni ma soprattutto si deve imparare a maneggiarle in modo consapevole, in modo critico. Lei ha notato nella sua stesura che per quanto riguarda le influenze degli altri diritti o dei termini che ricorrono intorno a questo l'essai ma che non c'è in greco, non c'è in ebraico. Lei ha scritto, qua anche la referenza a pagina 165, un discorso a sé in verità meriterebbe il caso ebraico. Ecco io volevo chiedere qualcosa intorno a questo e le dico quel poco che ho reeditato nelle letture, in particolare di questo giurista che ci ha lasciato quest'anno, aveva 92 anni, Pierre Lejandra, che ha qualche libro che è stato tradotto in italiano, ma ha pubblicato una quarantina di libri, un'opera singolare. Lui ha messo molto l'accento sulla questione dei codici di Giustiniano e poi ha insistito molto anche, lei fa riferimento a un altro libro ancora che non avevo colto, siamo prima di Giustiniano quello che lei cita, intorno al 400 mi pare. La collazio leggo mosaicarum et romanarum, la raccolta diciamo comparata tra leggi mosaiche e leggi romaniche. Sì, ecco poi c'è questo silenzio enorme e c'è la nascita diciamo del diritto romano canonico, cioè il diritto canonico che sembra privo di leggi, che ha fatto a meno il diritto cristiano di quella che è la legge ebraica e quindi c'è questa nascita verso il 1140 con Graziano del diritto romano canonico. Ecco, è da Lejandra che ho colto questo, perché non è che avessi tante altre letture così precise intorno a questo caso. Lui cita questa frase precisissima da Giustiniano che dice che non si occupa, cioè fa fuori diciamo la parte del diritto, tra virgolette diritto perché non c'è neanche la parola, ebraico, dicendo che le interpretazioni dei rabbini sono insensate, mi pare che sia a traduzioni più vicine. e una piccola domanda è, ma non si è mai pensato di tradurlo in italiano? Perché quella scusa della formazione latina di giuristi anche nel mondo intero occidentale c'è in latino, ma da quasi mille anni non è mai stato tradotto in italiano, potrebbe anche nessun editore che sarebbe un'opera meritoria, non c'è dubbio. Sì, e appunto volevo chiedere qual è la sua impressione rispetto a questo confronto. Appena un accenno, io avevo pensato ingenuamente a tutta la questione della legge ebraica che già ha enormità e richiederebbe laboratori di lettura e di confronto su questo che presumo anche che ci sia. Però io non trovo libri intorno all'argomento, forse non ho, come dire, le giuste antenne per intenderlo. Però recentemente, per un caso, ho intervistato, che l'avevo già intervistato per un suo libro storico intorno all'ebraismo in Italia, Andrea Iacov Lattes, che è uno storico che insegna da anni in Israele, a Gerusalemme, e siccome c'era una questione intorno al fatto che Israele non ha la Costituzione, non ha una cosiddetta Costituzione, l'avevo questionato. E la sorpresa non è che, diciamo, che senza Costituzione comunque non è né il diritto, diciamo, occidentale che interviene tale e quale come se fosse la Polonia, diciamo oggi, un'altra Polonia, non è semplicemente la legge ebraica, e mi ha parlato di una stratificazione in cui hanno ancora qualche cosa del mandato inglese, e pardon, hanno qualche cosa dell'impero ottomano addirittura, hanno qualche cosa del, l'ho appena detto quello, qualche cosa del, cos'era, protettorato inglese, e poi hanno, diciamo, la legge ebraica che funziona. Per cui, chi volesse, come dire, approfondire questo, c'è molta materia, vorrà appena un accenno in più di quello che ha fatto nel libro, qual è la sua impressione? Allora, naturalmente io nel libro non è che tratto della questione dell'Israele, del diritto ebraico è una cosa, il diritto israeliano è tutt'altra. A me nel libro interessava segnalare la singolarità del caso ebraico nella logica del confronto di Roma con gli altri, cioè il mio discorso è il diritto romano o l'incomplesso, l'insieme delle esperienze giuridiche romane hanno, fra tutti i diritti dell'antichità, un ruolo particolare perché le nostre categorie, la nostra idea stessa di diritto come un sapere separato eccetera eccetera vengono da lì, ma naturalmente noi dobbiamo sempre proiettarlo, contestualizzarlo nel panorama antico e quindi in un confronto con altre comunità del Mediterraneo antico e con le loro esperienze giuridiche. Però mentre questo, questo confronto, è un confronto anche all'insegna di una forte osmosi, di una forte circolazione, di una forte condivisione culturale, per esempio nel caso greco, perché noi abbiamo greci, intellettuali greci che riflettono su aspetti della Costituzione romana o anche di profili privatistici, di diritto privato romano, penso a Dionigi da Ricarnasso, penso a Polibio, la Costituzione mista eccetera eccetera. Abbiamo i giuristi romani che attingono a elaborazioni greche di filosofi, di retori, di poeti, da Omero in poi, quindi lì abbiamo due modelli antitetici di diritto. Il diritto dei sapienti, modello romano, in cui il diritto è poco prodotto dal potere politico, almeno per un lungo tratto della storia romana, ma è il prodotto di un ceto di esperti, quindi un modello sopocratico, potere nei sapienti, dall'altra un modello politico, centrato sulla legge, sul paradigma della legge produttiva di eguaglianza, l'eguaglianza artificiale di fronte alla legge. Allora, sono due modelli antitetici, ma sono due modelli che si parlano e in qualche modo si contaminano. Quando i romani parlano della loro prima legge, la legge delle dodici tavole, che è anche il primo grande testo scritto latino, proprio un monumento della letteratura latina, dicono noi lo abbiamo fatto andando a studiare le leggi che dicevano ad Atene, che probabilmente è una fesseria, ma per dire c'era un'ispirazione ideale greca. Il caso ebraico è particolarissimo perché? Per due ragioni. Perché apparentemente anche lì c'è un confronto, anzi addirittura il confronto è esplicito. La prima grande opera di diritto comparato che noi abbiamo è quella a cui alludeva lei prima. Questa raccolta di leggi mosaiche e romane, redatta o da un ebreo o da un cristiano, in cui sistematicamente si pongono a raffronto precetti vetro-testamentari e soluzioni risalenti al giuristico imperatore romano. Quindi c'è questo sforzo comparativo, però in realtà non c'è quella circolazione di modelli culturali, perché in fondo Roma ha sempre trattato il mondo ebraico come un problema e semplicemente una zona, un popolo da tenere a bada e nella sua irrequietezza è un oggetto di conquista, ma questa circolazione di modelli è stata lì assai più povera. Ma poi c'è l'altro grande problema, che il caso ebraico è completamente fuori di quella dialettica tra legge e giuristi, perché ha la legge, ma la legge è discesa in terra e nel momento che la legge è discesa in terra preclude il legiferare della politica. Per cui non c'è un sovrano legislatore, perché l'unico legislatore è Yahweh. E allora di cosa vive il diritto ebraico? Della interpretazione della libera inventiva sapienziale dei rabbini, fra i quali non c'è una gerarchia. Quindi è una polifonia aperta, controversiale, in cui anche le opinioni di minoranza sono in qualche modo leggeno scritta, perché trovano la loro radice nell'ispirazione divina che appunto guida nella interpretazione della Torà. Quindi è un modello che è eccentrico rispetto a quei due paradigmi storicamente incarnati da Roma da una parte e dalla Grecia dall'altra. Sì, un'ultima domanda al professor Stolti. Anche qui diciamo un po' in margine a quella che è l'impostazione per i giovani. L'ho ben colta, l'ho letta e mi interessa, perché io sono a digiuno di questa materia comunque, ma diciamo rimaniamo un po' in margine. Le chiedo, avendo letto non molti anni fa questa ultima piccola e intensa opera del giurista Filippo Sgubi, che ha scritto Il diritto penale totale, che è un titolo molto forte. Ecco, io le chiedo se questo movimento che è stato evidenziato e che lo ha evidenziato anche Gaetano in solera, non con la sferzata di Sgubi, ma fa sue varie considerazioni di quello che presumo sia stato un suo amico anche. Ecco, io le chiedo se il diritto dell'insegnamento universitario italiano risenta oggi di questa ondata penale popolare che interessa la politica, ma se questo abbia anche dei risvolti dell'insegnamento stesso appunto. Perché presumo che non sia insegnato questo incitamento al penale populismo. È una curiosità, se le permette di sviluppare… Allora, non so se ho colto la domanda. Lei fa riferimento al proliferare del penale in ambiti anche dal punto di vista applicativo, in cui un tempo non si usava gli strumenti del penale, ma piuttosto semplicemente la tutela civilistica, la tutela amministrativa. Certamente vi è questa tendenza, ma è una tendenza direi più complessiva a una forte giurisdizionalizzazione di tutti i rapporti, a un incentivo del contenzioso. Pensiamo soltanto ai concorsi. Dieci anni fa quasi nessuno impugnava l'esito di un esame di Stato, di un esame di maturità. Oggi quasi tutti, quasi mai con risvolti penali, ma almeno con risvolti amministrativi. Quindi vi è certamente questa tendenza, ma questo è un fatto da studiare soprattutto da un punto di vista di sociologia del diritto. Non è che cambiano gli istituti, almeno per il momento, non è che cambiano, poi è chiaro che riterarsi di questi fenomeni nella prassi incide anche sugli istituti, incide in primo luogo sugli istituti processuali, perché chiaramente aumenta il contenzioso e allora c'è bisogno di trovare degli antidoti nelle regole processuali per far fronte a questi nuovi problemi. pensi soltanto alla grande enfasi che viene posta oggi sul problema della chiarezza e sinteticità degli atti processuali. È un prodotto di questa proliferazione, questo accanimento processuale che è tipico nella prassi. Come reagisce l'insegnamento universitario rispetto a tutto questo, secondo me per ora fatica molto a relazionarsi con le novità, ma non solo con questa, con molte altre, nel senso che purtroppo vi è un conformismo didattico, ripeto non solo da questo punto di vista, un conformismo didattico che è il fratello scemo del tradizionalismo, che è un'abitudine per pigrizia a ripetere moduli, schemi di insegnamento, quando per esempio oggi un punto che dovrebbe essere all'ordine del giorno nell'insegnamento è quello di formare all'argomentazione, di formare molto all'interpretazione, di formare molto al lavoro casistico, all'esercitazione su casi pratici, su casi concreti, che di nuovo in realtà se io lavoro guardando alla tradizione, a non alla pigrizia conformistica, ce n'è come di tradizione in questo senso alle nostre spalle, dai giuristi romani che lavoravano sui casi, alle scuole medievali in cui c'erano le questioni se le disputazioni, se sino al programma didattico per studi giuridici a cui pensava il giovane Leibniz, fino alle scuole ottocentesche in cui si lavorava, si faceva la clinica del caso, quindi vi sarebbe molto da svecchiare, da reinventare, invece di arroccarsi su un nozionismo sempre un po' a ribasso, però questo è un problema più vasto, è un problema un po' forse diverso da quello da cui eravamo partiti. Sì, se può accennare in che direzione sta andando la sua ricerca in questo momento, perché questo diciamo è un libro didattico, no? Quindi... Sì, sì. Allora, questo è stato un po' un... Dopo il lavoro in particolare sulla sede della giustizia e quindi su... Sì, in realtà più che sulla giustizia, dopo il libro sulle tragedie greche, sto tornando al mondo greco, me ne sono un po' interrotto per questo libro e per un'altra cosa che sto facendo con Aldo Schiavone per Enaudi, un'antologia di giuristi romani, ma sono, diciamo, un corso, i lavori per un'altra cosa sul mondo greco, giuridico, ma non solo, che non è tanto sui concetti, ma sulle forme di ragionamento e in particolare su quello che potremmo chiamare, prendendo un po' a prestito l'espressione di Carlo Ginzburg, l'alba del paradigma indiziario, cioè quando si è iniziato a ragionare tramite segni, indizi, congetture, verosimiglianze, quei ragionamenti che oggi non diremmo abduttivi, cioè sulla base dei segni lasciati ricostruire gli eventi pregressi. La mia tesi è che, ma non è particolarmente nuova, ma sto cercando di documentarla sul campo, che sia un'innovazione piuttosto repentina, collocabile negli ultimi tre, quattro decenni del V secolo a.C. e soprattutto circolante in tutti i grandi saperi dell'epoca, perché è tipica della riflessione retorica, diciamo, tra Antifonte e poi la grande sistemazione della retorica ad Alessandro e della retorica aristotelica. La troviamo nella tragedia, pensiamo solo al grande testo, diciamo, dei segni e degli indizi, delle congetture che è l'edipo tirano di Sofocle. La troviamo nella stereografia, in erodoto e ancora più in tucidide, la troviamo nella grande medicina ipocratica. Quindi è proprio un paradigma tenuto a battesimo in quegli ultimi decenni del V secolo a.C. e che poi il logos platonico, l'intelligenza speculativa della tradizione socratico-platonica, ha un po' soffocato e poi non lo abbiamo riscoperto in altri momenti della nostra storia. Quindi questo è un po' il campo di ricerche attuale. Bene, le ringrazio il professor Manuero Stolti. Grazie a lei. A una prossima volta.